nome nicolas valerio età 30 25 provenienza di sernio molise sicilia il tuo vino preferito chianti e barolo il tuo insegnante preferito ambrogi ambrogi perché hai scelto un corso di metro per un'esperienza personale e lavorativa perché mi piace questa passione la vorrei praticare al cento per cento la tua esperienza alla chef academy è stato un percorso intenso ricco di emozioni di una crescita personale mia e anche a livello lavorativo è stata una bella esperienza da rifare sicuramente più e più volte che dire auguro a tutti di farla perché un corso veramente formativo la tua lezione preferita missing plus diciamo le varie regole sul servizio in sala in generale ecco il tuo compagno di corso più simpatico valerio nicolas dove farai lo stagio d'ambrogi all'altro all'erio e io ho deciso di non fare lo stagio perché già lavoro quindi appena torno comincio subito con la stagione ecco dove ti vedi nei prossimi anni spero d'ambrogi e spero in una struttura ristorante di alto livello consiglieresti chef academy perché per il percorso che è stato svolto è stato un bellissimo percorso ricco di esperienza che consiglierei a tutti quanti di fare come dicevo prima consiglio la chef academy perché un percorso completo dove si fa inglese proprio di servizio la parte sommelier quindi è un corso veramente completo cosa ne pensi del tuo collega in capa molto preparato e spero che il suo futuro sia di alto livello spero che ci potremmo rivedere rivederci